Senti, scusa. Scusa, ti disturbo? Eh, no. No. Vedi, è che sono nuovo, sono due ore che giro per tutta la scuola e non riesco a trovare gli spogliatoi. Beh, sono in fondo a sinistra. In fondo a sinistra? Sì. Bene, grazie. Ci sto andando anch'io. Se vuoi, ti accompagno. Va bene. Non sono gay, eh? Come? Mi hai messo gli occhi addosso da quando mi hai visto in corridoio. Non te la prendere. Tu guarda quello che vuoi, a me non mi importa. È molto che sei alla Sensinas. Sono venuto da Londra all'inizio dell'anno. Tu in che classe sei? Non nella tua. Facciamo un riposino prima di continuare. Giuro che con questa sbornia non ce la faccio. No, aspetta, aspetta. E quindi noi non ci uniamo alla festa? No. Facciamo un riposino. Riposino? Va bene. No. Dove vai? Non so, a cercare un divano. Ma che dici, stupido? Tu riposi qui con me. Voglio che stai comodo. Ok. Vediamo. Aiutami, non ci riesco. Vado a caricare il cellulare. Oh, cazzo. Che bel culo ti fanno questi boxer, eh? È meglio di quello di molte ragazze. Non mi stupisce che fai impazzire tutti. Però... che io scopo a sé. Vai, sta zitto. Te lo sto facendo venire duro, vero, bastardo? No. Forza, dormiamo. Scherzavo. E quindi fai una festa e non mi inviti? Non è per te. Perché? Perché è una festa per essere liberi. Per... mescolarci, baciarci, drogarci e strusciarci. Mmh. È per sperimentare. Senza paure, senza pregiudizi, senza regole. È solo per coraggiosi. Allora verrò. Quante volte ti sei masturbato pensando a questo momento. E adesso? Che fai? Il difficile? Aspettami. Qui comando io. Sei arrabbiato sul serio? Io sono sempre serio. Non sono la tipica checca repressa e gatta morte. Senti, ancora. Io te l'ho detto mille volte che sono etero. Sì, sì, certo, a parole. Però con gli occhi e con le mani mi tocchi l'uccello nella doce, il culo sul tuo letto. Etero i miei coglioni. Ah, fammi il piacere. Che c'è? Ti sei preso una cotta per me. Davvero? Io? Neanche per sogno. Senti, con te non ho fatto niente che non farei con chiunque altro. Con chiunque altro, ok? Lo farei con lei? Con lei lo farei di sicuro? Sì, certo, certo, sì. Ma non mi hai baciato. Nemmai ti bacerò. Perché non hai il coraggio di farlo con un uomo, vero? Adesso basta. Tornatene a casa. Sì che ho il coraggio. Ah, sì. Vediamo. Beh, guarda. Dove vai? Scusate ragazzi. Oggi vale tutto, no? Sì. E tu cosa cerchi? In un ragazzo? Che mi ami come merito. Come io sarei capace di amare lui. Voglio sentire di essere la sua priorità e fargli sentire che lui è la mia. Voglio dargli tutto. E tu? In una ragazza? Quello che abbiamo io e te. Sintonia. Poter parlare di qualsiasi cosa o stare in silenzio. Tranquillità. Intimità. Cazzo, non lo so. Senti, non prendermi più in giro, ok? E che... Cazzo. E che... No, Ivan, no. Solo amici, come vuoi tu. Però non farmi questo, cazzo. Ma è che io... Dove vai? Nella sala degli ospiti. Cosa, Patrick? Dormi. Smettila, Ivan, cazzo. Davvero. Dormi qui con me. Tu sei pazzo. Per favore. Non riesco a dormire. Comincio a contare le becore. E che non faccio altro che pensare e ripensare. E per pregiudizi o paure. O che ne so. Magari mi sto perdendo qualcosa di fantastico. Con una persona fantastica. E che mi fa stare benissimo. Così mi fai arrabbiare sul serio, hai capito? Per l'ultima volta, Ivan. Smettila. No. Non voglio smettere. Che c'è? Scusami. Scusa, vai. È che... Sono nervoso. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Ok? Sono tranquillo. Sì, cazzo. Va bene. Va bene. Tranquillo. Dai, lascia fare a me. Sì. Va bene. Bene. Molto bene. Bene. Comment. Chiira. видifique. Ov 不ositi Pught beingrito. Si. Si. Si.